Oggi è il 3 novembre. 1918. Trento e Trieste diventano italiane. 1967. Guerra del Vietnam. Inizia la battaglia di Dato. 1957. Il satellite Sputnik 2 entra in orbita. Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Una delle più drammatiche alluvioni in Piemonte. Ne sarebbero venute tante altre. Grazie a tutti.